Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi siamo tornati qui con un nuovo video è un video spacchettamento, mi è appena arrivato il corriere e il pacco è qui vicino a me questa è la campagna 13, allora andiamo a vedere cosa ho trovato ho trovato un'anteprima della campagna 16 con le cosine di Natale poi mi è arrivato 10 cataloghi di campagna 14, che è la campagna corrente di adesso e questi sono altri cataloghi, hanno il davanti così e così poi mi è arrivato questo qui per noi presentatrici l'outlet, l'avon outlet di campagna 14 e poi il tutto per noi dell'anteprima di campagna 16 la fattura e le offerte per noi presentatrici di campagna 16 ok andiamo con i prodotti allora mi è arrivato questo qui che è un evidenziatore con i blocchettini questi qui sono i blocchettini sono tre blocchettini e poi c'è l'evidenziatore che è così, è rosa e qui penso vadano qui ci vadano i blocchettini non so, leggerò per bene le istruzioni e questo me l'ha inviato l'avon per me poi dopo mi hanno ordinato due creme della profumazione Love da 150 ml poi mi è arrivato lo shampoo lo shampoo ha la profumazione di vaniglia e pera da 250 ml della Von Naturals Hair Care poi mi è arrivato dell'Advanced Technique questo qui è da 30 ml ed è un... è un trattamento anticrespo ve lo apro, ve lo faccio vedere com'è ed è questo qui questo qui è da 30 ml scusate la luce è pessima ma fuori piove e mi sono un pochino dovuta adattare poi mi è arrivata un'altra crema questa qui è dell'Incand... Incand... Incand... sense penso si dice così da 150 ml poi mi è arrivato il diodorante da uomo della Black Shud da 150 ml poi questi qui li ho comprati io in questa scatola qui che sono trovati in questa bustina qui sono questi occhiali non sono veri sono finti con le lente finte e qui hanno questi bellini i pua bellini mi piacciono questi pua e questi li ho presi qui quindi poi mi è arrivato con i mascara che me ne hanno ordinati tre intanto ne ho trovati due l'altro non so dove è finito adesso lo vedremo dopo me ne hanno ordinati tre e ora l'altro non adesso non lo trovo e mi è arrivato le le non mi non mi i grattini diciamo dove c'era la promozione allora questo qui è un big false and lash della tonalità black questo qui è quello che ti fa l'effetto delle ciglia finte e il pegadin è come quello del big darling però ha lo scovolino diverso è fatto così e anche questo è sempre il big false dell'ash però è della tonalità navi e cioè è blu è sempre così e ha lo scovolino così blu poi ti sentite abbaiare scusate ma è il mio cane poi mi è arrivato della ideal flow flow penso dice così è un fondotinta della tonalità shell che è così ve lo faccio vedere ecco è così non so se si vede tanto poi mi hanno ordinato è l'acqua di colonia di hello kitty da 50 ml e fatto così ecco qui è bellino con questo fiocchettino qui è da 50 ml questo è elastico è bellino è rosa poi mi è arrivato un altro fondotinta della calming effect della tonalità warmest beige che è questo qui così da 30 ml questa poi mi hanno ordinato e non vi li posso fare vedere sono due orologini dico se mi riesci a aprirli uno ve lo posso vedere ecco fatto così grande così ed è a questo lo ragionino qui poi mi hanno ordinato non so se si vede sono le spugnette per le nail art sono 4 5 spugnette poi mi hanno ordinato la crema per i piedi della footworks da 75 ml all'olio di jojoba è una crema da notte rigenerante poi mi hanno ordinato della planet spa la mousse per il viso al burro di karité africano da 75 ml poi mi hanno ordinato questo qui che non posso aprire è il pennello per il fondotinta poi mi hanno ordinato il pennello non si vede tanto non so se riuscite a vederlo tipo è il pennello avventaio per per fare le unghie e mi hanno ordinato anche questo che è il pennellino quello angolato per fare le unghie poi mi sono arrivati due campioncini di profumo uno della rare artemis e questo è dell'attraction for hair poi mi sono arrivati allora questo qui è un eyeliner della color trend della tonalità purple plum si chiama e ora ve lo faccio vedere che è fatto così questo è il colore ed è così se mi riesce ad aprirlo non mi riesce ah si apre così ecco così ecco così penso si mette anche con questo ah ecco così e anche a questo quindi è duo poi ah eccolo il big false and lush ehm della sanità black ve l'ho fatto vedere lì anzi quindi non ve lo sto a far vedere di nuovo poi mi hanno ordinato eh dell'avon il braccialetto quello quello per il cancro che è fatto così allora lo faccio vedere che ed è così rosa con il simbolino qui non so se riuscite a vederlo ecco poi mi hanno ordinato un rossetto della color trend eh della tonalità amethyst che è questa qui poi mi hanno ordinato un'altra crema della mesmeries for hair da 150 ml poi mi hanno ordinato eh in questa scatolatina sono ehm dei set di bijoux sono dei set dove ci sono dove ci sono questo cavigliera diciamo o braccialettino e questo anellino qui qui e poi c'è un altro soltanto è rosso è rosso è la cavigliera qua le braccialettine soltanto che è rossa poi mi hanno ordinato questi qui che sono questi qui che sono sono matita o ombretto questa è della tonalità princess pink e royal velvet vediamo vediamo che è fatta allora da una parte è così e da una parte è così poi ce n'è una la stessa princess pink e royal velvet e poi c'è un'altra che è sul icicle non so se lo vedete che è da una parte è così e da una parte è così poi questo qui mi hanno ordinato questo qui che è un pennarello tinta labbra della tonalità si chiama coral è così questo qui è il colore praticamente poi mi hanno ordinato un altro uguale però della tonalità è frisia si chiama che è questo qui che è questo qui è un rosso questo un rosso bello acceso non si vede tanto perché come ho detto prima la luce non è una delle migliori oggi poi mi hanno ordinato un altro rossetto e si chiama doll pink non è questo il colore non so se si vede qua ma non penso è un rossino abbastanza acceso e poi mi hanno ordinato un una matita ombretto non retraibile del colore pastel plum della color trend che è così così è un veletto più o meno poi mi è arrivata questa qui perché ora ve l'apro ve la faccio vedere questa qui è una borsetta del colore blu blu scuro che sembra così nero bellina con questa sempre così e dentro è così piccolina c'ha la tracolla tiri fuori e via poi mi è arrivato l'attesissimo ombrello è di mia mamma e non aspettavo altro di averlo perché è fatto con le nuvolettine però quando si bagna vengono fuori gli arcobaleni quindi mi vedeva l'ora di provare l'ombrello e poi dopo ci sono i jeans quelli che ho fatto vedere sugli altri video che sono quelli a vita alta che sono grigi e il pacco è vuoto è finito il video è finito e alla prossima